Volevo tentare di fare una riflessione sul tema della coerenza, perché spesso chi mi contatta, mi chiede di Bitcoin, spera, pensa di poter ottenere grandi risultati, grandi guadagni in pochissimo tempo, magari anche partendo da piccoli capitali. Allora, in percentuale sì, il percentuale di guadagno che si può avere con Bitcoin, con una cripto, è sicuramente maggiore di altri investimenti. Però, naturalmente, aumenta la volatilità e quindi bisogna essere preparati, bisogna studiare. Mentre, spesso, anche persone nel mio piccolo che mi contattano vogliono avere risultati veloci, senza impegno, senza studio, senza fatica. Ecco, è un po' il leitmotiv di questo periodo, di questa società che stiamo vivendo. Poi, tutti ci lamentiamo, spesso ci lamentiamo dei politici, ci lamentiamo del sistema, ci lamentiamo delle cose come vanno, però non siamo noi, in primis, a riuscire a fermarci e prenderci giusto tempo per le cose importanti. Ecco, penso che vi sia difficile parlare di questi temi in un video così corto, però vi invito a guardare e a studiare un video che trovate anche su YouTube e che è la società empatica di Jeremy Rifkin. Diciamo che riprende un po' quello che è il mio pensiero e quello che vorrei vedere anche da un punto di vista economico, anche da un punto di vista degli investimenti in questo mondo che ha tantissimo bisogno di cambiamento. Quindi, facendo anche un'autocritica a me stesso, inizio anch'io con il cambiare, con maggior impegno per aiutare anche altre persone a raggiungere un'indipendenza economica che però sia sostenibile, che sia fondata su fondamenta solide e non sulla fuffa che spesso chi ti promette guadagni facili ti può portare. Ciao, a presto!